Complimenti signora, vedo che anche lei usa il nostro push Eh sì Ottima scelta e che bella camicetta bianca, ma che dico bianca, bianchissima, l'ha lavata con push? Eh sì Il detersivo che rende tutto il bucato bianco bianchissimo, ed è contenta? Eh no Perché? Perché prima di lavarla era blu